Siamo al Macro di Roma, abbiamo appena inaugurato la mostra del Tunnel Prize e la non edizione. Ha vinto Matteo Nasini, un artista di grande qualità, viene dalla musica, ha fatto tutto un percorso molto innovativo e sofisticato e ha vinto con un'opera dedicata all'analisi dei sogni, riportata poi con una tecnica sofisticata in queste meravigliose porcellane. Insieme a Matteo Nasini, qui al Macro, abbiamo un po' la meglio gioventù, che abbiamo selezionato noi di Inside Art e che oggi rappresentiamo qui. Sono tutti i generi rappresentati, dalla scultura alle fotografie alle installazioni ed è una, come dire, occasione per vedere quanta energia, quanto talento ha questo paese. Sparkle Matter è un progetto di ricerca sugli stati di coscienza, il suono e la materia. Fondamentalmente ho registrato l'attività cerebrale durante il sonno e i sogni e attraverso dei software ho trasformato prima in tempo reale facendo delle performance i dati in suono. In queste performance, che sono stati degli sleep concert, c'era una persona che dormiva nello spazio e il pubblico è potuto stare una notte ad ascoltare la trasformazione del suono proveniente dal sonno. Per quello che riguarda le sculture, invece ho preso i dati provenienti da queste polisonnografie e li ho messi in un software di modellazione e successivamente ho stampato in porcellana 3D i pattern risultanti dall'attività elettrochimica del sonno.